hi babes benvenuti in questo nuovo video oggi come avrete già letto dal titolo andiamo a fare un nuovo what I eat in a day quindi cosa mangio in un giorno partiamo con la colazione e quella mattina ho deciso di fare le fragole visto che le avevo comprate e le fragole appena le trovo le voglio mangiare subito e di solito non durano più di una giornata perché sono praticamente il mio frutto preferito peccato che ci siano soltanto in questo periodo comunque dopo aver tolto ovviamente tutta la parte dell'erbetta le vado a lavare benissimo perché le fragole sono un frutto veramente molto sporco di solito aggiungo anche un pizzico di bicarbonato per lavarle ancora meglio e vado prima grossolanamente con l'acqua corrente dopodiché le lavo tutte quante singolarmente ben bene le strofino per bene dopodiché le vado a tagliare e le vado a dividere su due piatti così le mangiava insomma anche il mio fidanzato io personalmente amo le fragole o intere o al massimo tagliata a metà odio quando fanno quell'acquolina tipo il succo non mi piace poi ho preparato la colazione sempre con lo yogurt greco mettendo come sempre un quintale di dolcificante e poi ho creato la mia ball praticamente di frutta aggiungendo anche il cioccolato fondente io utilizzo quello della linda al cento per cento che secondo me è il migliore in assoluto vado praticamente a decorare lo yogurt rendendolo un pochino più aesthetic andato ad aggiungere il cioccolato e poi il miele questo fa sì che comunque dia sapore alla bolle visto che lo yogurt greco non è che sappia di chissà che cosa e più lo rende anche molto carino ed ecco qua quindi la mia colazione devo dire buonissima passiamo poi al pranzo e per quel giorno avevo in mente una cosa molto easy zero sbatti ovvero tonno in scatola ho aperto tre tonni scatola di mare blu quello senza olio al naturale e poi avevo già cotto in microonde dei broccoli surgelati quindi questo è proprio il mio solito pranzo zero sbatti perché tre minuti giusto il tempo di cuocere in microonde i broccoli e via poi avevo comprato questo guacamole buonissimo guacamole cento per cento fatto solo con l'avvocato e altra roba per fare appunto guacamole e questi crackers della molino bianco buonissimi integrali sono andata a disporli su un piatto e poi sono andata bellamente a spiattellare un po di guacamole questo è veramente un pranzo super buono sfizioso però facile da fare perché più che cucinare bisogna semplicemente assemblare ed ecco qua il piatto completo ovviamente poi avevo aggiunto anche un pochino di olietto sul tonno visto che essendo al naturale ho aggiunto un po di olio per renderlo anche un pochino più cremoso diciamo passiamo per lo spuntino ho mangiato questo budino della milk pro buonissimo veramente pazzesco non so se l'avete mai provato ma è buonissimo è proteico ma non sembra sembra veramente un dolce e il fatto che sia proteico e quindi faccia bene è ancora meglio perché è buonissimo passiamo poi alla cena e quel giorno era a casa quindi ho cenato relativamente presto per i miei standard visto che io sono tipo alle 11 e mezza e sono andata appunto con calma a preparare il riso quando capita che sono a casa ovviamente ne approfitto per cucinare il riso anche per altri giorni portarmi appunto avanti con il meal prep poi come verdura diciamo ho preso questi piselli in scatola perché volevo fare il riso alla cantonese visto che appunto avevo più tempo del solito deciso di fare una cosa un pochino più sfiziosa quindi sono andata a prendere il wok e lo scolapasta ovviamente per andare a scolare poi lì il riso e sono andata poi a mettere all'interno del wok che è proprio quella padella per fare tutte queste cose un po giapponesi sono andata a mettere o cinesi non so se il riso alla cantonese sia cinese comunque un sacco di uova sia bianco che rosso nel frattempo il riso si era cotto quindi ovviamente l'ho scolato e l'ho lavato bene per togliere tutto quanto l'amido questa è una tecnica che faccio per andare a rimuovere tutto il riso dalla padella e appunto come vi dicevo prima lo vado sempre a lavare per togliere tutto quanto l'amido anche perché conservandolo per i giorni successivi se non togliete l'amido il riso si incolla e diventa una pappa nel frattempo qui vedete che le uova si stavano cuocendo e le ho girate per creare praticamente le uova strapazzate e nel frattempo le ho fatte cuocere poi ho iniziato ad aggiungere vari condimenti ovvero sale e pepe che praticamente sono le uniche due spezie che utilizzo a parte la paprika qualche volta poi ho aggiunto i piselli in scatola ovviamente i piselli freschi sono sicuramente più buoni ma questi della Bonduelle sono molto comodi perché non hanno nulla vanno sgocciolati leggermente sono belli che pronti e ho continuato a mescolare il tutto in modo tale che si insaporisse poi sono passata ad aggiungere la salsa di soia ho trovato questa qua di questa marca che era praticamente senza zucchero quindi a parte essere molto salata diciamo che rendeva il riso alla cantonese un pochino più sano ho aggiunto poi il riso basmati e sì tanto perché ovviamente doveva mangiarlo anche il mio fidanzato il mio fidanzato mangia parecchio e sono andata appunto ad assemblare il tutto piano piano girato amalgamato il tutto e stava venendo veramente una cosa buonissima non potete capire che profumo che c'era poi ho aggiunto a fuoco spento anche un po di olio per andare a dare anche una percentuale di grasso al piatto e poi sono andata ad aggiungere i cubetti di prosciutto cotto ne ho aggiunti quattro perché comunque la quantità di riso ora non ricordo bene ma erano tipo sui 350 grammi e sono andata a girare ancora poi ho aggiunto ovviamente anche tutto il resto della salsa di soia e sono andata ad impiattare questo era il mio piattino per fare una cosa un pochino più orientale sono andata a mettere in questa ciotola come se fosse una bowl e ho preso anche le bacchettine e questo era la cena buonissima veramente poi ho preparato uno spuntino notturno perché avevo un po di fame e ho fatto il mio solito porridge freddo questo è l'avena che utilizzo sono fiocchi di avena non aromatizzati e semplicemente questa è la procedura che faccio metto 30 grammi di fiocchi di avena una quantità di acqua in modo tale che la consistenza deve essere questa che vedete nell'immagine quindi abbastanza liquida altrimenti si secca troppo e poi va in microonde da un minuto a due minuti in base alla potenza del microonde vedete voi non deve diventare troppo secco nel frattempo che cuoce il porridge vado a creare la cremina al cioccolato con il cacao amaro non lo quantifico sinceramente vado un po' a occhio però mettetene parecchio insomma questa è la quantità che ho messo io quel giorno ne avevo messo troppo poco quindi ne avevo messo molto di più poi aggiungete un pizzichino di acqua anche qua aggiungete acqua in base alla consistenza deve diventare liquido ma non troppo e se volete potete anche dolcificarlo con un po' di tic nel frattempo prendete lo yogurt greco io in quel caso avevo questa ciotola bella grande quindi ce n'era un po' avanzato e anche qua lo andate a dolcificare con il tic io l'avevo già messo il tic il giorno prima di conseguenza sono andata a mescolarlo un po' per diciamo raccattarlo tutto dopo che il porridge esce dal microonde andate praticamente a stratificare lo yogurt greco sopra il porridge e cercate di stenderlo in maniera abbastanza omogenea come sto facendo io in questa clip dopodiché andate praticamente a decorare mettendo la cremina al cacao che avete fatto in questo caso vedete che era venuta molto liquida e troppo poca deve diventare molto più solita diciamo ma se mi seguite su instagram vedete sempre i miei porridge lo lasciate in frigo tutta la notte e basta poi lo mangiate quindi niente questo era tutto spero che il video vi sia piaciuto vi mando un bacio bye